Saluto con vivissima cordialità i capuani e gli amici della città di Capua, le autorità locali con le quali manteniamo un contatto ed una collaborazione costante e i rappresentanti delle categorie economiche, delle professioni, delle arti, delle organizzazioni sindacali e commerciali. Ringrazio tre sì i dirigenti e tutto il personale del Comune per il loro sempre maggiore impegno e disponibilità. Lo scopo di questo incontro, ancorché a distanza, è quello di tracciare un breve bilancio di questi primi mesi di attività per ritrovarsi anche attraverso i mezzi di informazione e scambiarsi ancora gli auguri con tante persone con le quali si è lavorato lungo il corso dell'anno. Così anche con gli esponenti del mondo dell'arte, della cultura, della musica che hanno dato lustro a Capua, anch'essi espressione delle grandi risorse e delle eccellenze che questo territorio vanta in tanti settori. Il parlare con voi oggi non vuole avere un carattere autoreferenziale e non vuole essere un discorso per addetto ai lavori o un evento per pochi notabili locali. Questo è un momento di incontro con una comunità che vuole ritrovarsi e riaffermare i valori della sana e leale collaborazione per andare avanti insieme e costruire un futuro migliore. Il ruolo del sindaco non consiste solo nel tagliare nastri o partecipare a convegni, ma nell'avere un'attenzione costante e sottolineo costante alla situazione locale, al comune sentire della gente, quella gente che vorrei incontrare da vicino ogni giorno ma che gli impegni di verifica da vicino della macchina amministrativa mi impediscono. E questo non può farsene condizionare, ma per meglio corrispondere alle effettive esigenze del territorio. In tal senso, indispensabile è la collaborazione con le altre istituzioni, gli enti e le associazioni, espressione della società civile e la disponibilità e lo spirito di servizio dei responsabili in ogni settore della vita pubblica. Il comune deve assicurare che la struttura organizzativa funzioni, che l'ente sia forte ed autorevole, che le regole della vita civile siano vissute e rispettate, i diritti dei cittadini riconosciuti e non sostituiti da reti protettive, familistiche o, peggio ancora, della criminalità organizzata. Ci stiamo pertanto costantemente adoperando affinché vengano superate le indolenze, la superficialità, il disimpegno e a volte anche la complicità che possono annidarsi anche in qualche ufficio pubblico, affinché i servizi vengono correttamente ed efficacemente resi ai cittadini, i controlli vengono effettuati e le tutele vengono assicurate. L'aver tenuto in piedi un'amministrazione formatasi con le elezioni del giugno del 2016 è stato di per sé un risultato importante. Si sono superati i momenti di acuta tensione, gli imprevisti, alti e bassi nelle vicende di maggioranza e di governo. Si è in sostanza evitato di confermare quella immagine di una capo instabile che tanto ci penalizza e si è messo in moto, nonostante i continui agguati, l'annunciato indispensabile processo di cambiamento, ancorché io debba riconoscere di non aver dato per tempo ed in modo convincente i risultati concreti ottenuti, con impegno forse poco vistoso e reclamizzato, ma tuttavia paziente ed istancabile, avendo privilegiato il linguaggio dei fatti a quello delle parole. Mi sembrava infatti superfluo, se non offensivo, delle intelligenze dei miei concittadini, dover loro ripetere che non solo la difficoltà, ma in molti casi la impossibilità di risolvere alcuni problemi e di mettere in cantiere progetti utili per la crescita socio-economica della nostra città, è legata all'ingente debito ereditato dalla precedente amministrazione e che mi auguro possa essere progressivamente istinto. Credo invece, e non è motivo polemico, che sia offensivo per la sensibilità dei capoani accusare di immobilismo questa amministrazione da parte di coloro che con la loro pessima gestione del potere, anziché chiedere scusa ai nostri cittadini, si permettono di accusare di disimpegno chi sta cercando, senza ulteriori oneri e aggravi per le finanze della città, assicurare i servizi primari, l'erogazione delle spese ordinarie, di fare dei passi concreti per ottenere dallo Stato e della Regione interventi tempestivi ed efficaci per venire incontro alle più significative emergenze. E qui voglio almeno citare la grave e persistente situazione del Museo Campano. E così abbiamo realizzato l'obiettivo primario di questa amministrazione, costituito dal risanimento finanziario dell'ente. È un dato di fatto che il Comune di Capua si trova in uno Stato di si stesso finanziario dall'anno 2013, con una massa passiva di oltre 27 milioni di euro, per l'esattezza 27 milioni 968 mila 512 euro. Amministrare un ente in dissesto significa dover soggecere a molti vincoli di legge al punto che la stessa programmazione è resa estremamente difficile. Si pensi all'obbligo di mantenere le tariffe al massimo livello, alle restrizioni sulla pianta organica e le conseguenti non possibili nuove assunzioni nonostante siano rese necessarie dei pensionamenti. Si pensi al pagamento della massa passiva, che con la normativa attuale deve essere affrontata con il bilancio dell'ente. A tanti limiti si aggiungono i tagli progressivi dei trasferimenti statali, i vincoli della finanza pubblica, l'obbligatorietà della previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ma tornando all'obiettivo primario del risanimento finanziario, questa amministrazione dovrà dunque affrontare innanzitutto il finanziamento dell'anticipazione per l'estensione della massa passiva di cui ha il decreto del giugno del 2016, che richiederà la previsione di un bilancio già dall'anno 2016 di 300.000 euro e oltre per ben 20 anni. si pensi che cosa si sarebbe potuto programmare con tali somme. Si sarebbero potuti destinare tali importi all'estensione anticipata dei mutui della Cassita e Presti, con l'alleggerimento del bilancio corrente e il miglioramento degli equilibri di bilancio. Oppure si sarebbero potuti destinare le stesse somme a favore degli interventi di investimento. O ancora per promuovere progetti di carattere sociale e culturale e per il rinancio così della nostra città. E invece no. Questi servizi non solo non sono stati realizzati nel passato. Un passato che ha fatto registrare progressivi segnali di regresso, oggi rilevabili ad occhio nudo, ma molti di benefici risultano essere stati negati ai figli di una generazione a venire che oltre alle difficoltà congiunturali dovranno pagare pure gli errori dei loro padri. Ma tanto non basta far doverosamente tacere gli artefici di tanto disastro e che ora improvvisamente sono diventati virtuosi negando i diritti degli altri, mentre loro sono stati lautamente soddisfatti, maggiormente nei periodi di gravi crisi che per questo richiedeva un'azione di responsabilità a favore dell'ente martoriante. Eppure i responsabili di tanto disastro hanno ancora l'impudenza di atteggiarsi a tutore della pubblica moralità. Per questo è di necessità la vera programmazione di questa amministrazione è diventata l'azione di risinamento finanziario. E' questa amministrazione che dovrà per prima affrontare le difficoltà a trovare le risorse per il finanziamento del debito, per l'estinzione del dissesto che costituisce una priorità assoluta. Eppure, nonostante le grandi difficoltà, questa amministrazione è riuscita già in fase di approvazione del bilancio 2017-2019, a prevedere le risorse necessarie nel 2018 e nel 2019. Nel contesto di un tale disastro, questa amministrazione ha realizzato però l'internalizzazione dei tributi maggiori, che darà finalmente, finalmente, la possibilità di gestire direttamente le proprie entrate principali, consentendo al cittadino capuano di relazionarsi direttamente con il comune, senza intermediari e potendo così conseguire con maggiore velocità e definitivamente la propria posizione tributaria. La politica delle chiacchiere non piace né a me né tantomeno né cittadini. Quindi vogliamo parlare con i fatti. Con prove di libera digiunta, il comune di Capua, in un progetto che vede la partecipazione di altri 14 comuni, ha approvato qualche giorno fa la perimetrazione del distretto turistico dell'Appia Antica. È un'iniziativa questa che ha già riscosso il parere favorevole dell'assessorato al turismo della regione Campania e che ha per finalità quella di creare le condizioni amministrative, infrastrutturali ed economiche per trasformare l'area interessata, compreso quindi il territorio di Capua, in un vero elemento di attrazione turistica. La giunta municipale, sempre in merito all'importantissimo settore della cultura e del turismo, ha altesì approvato la proposta progettuale esecutiva relativa al Carnevale di Capua ed il relativo piano finanziario utilizzando il piano della Campania 2014-2020 ed in particolare l'avviso pubblico di selezione riguardando il programma giugno 2017-maggio 2018, sezione iniziative promozionali sul territorio regionale, grazie al quale avrà un importante introito di 40.000 euro. Negli ultimi anni, nel corso delle progresse e amministrazione, la Carmesse, di cui è stata pure saltata un'edizione fortunatamente salvata dal nostro concittadino Franco Fierro, non è mai stata organizzata con sì largo anticipo. Il Comune di Capua ha anche stipulato con l'Università degli Studi della Campania, Luigi Manvitelli, uno schema di convenzione regolante i rapporti per la gestione dei tirocini di formazione e di orientamento. Restano a carico dell'Università soltanto gli oneri assicurativi. La Giunta Municipale ha accolto con prove delibera il progetto per far svolgere fino a un massimo di tre studenti i succedati tirocini di formazione e di orientamento presso il Comune di Capua. Per quanto riguarda il settore tecnico, saranno stanziati, finalizzati di interventi di edilizia scolastica in favore della Scuola Media Ettore Fieramosca, oltre 389.000 euro da parte della Regione Campania. È stata anche realizzata la manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e servizi igienici, oltre a diversi lavori di adeguamento in sicurezza strutturale della Scuola Elementare in via Martiri di Nassilio. Dopo anni di inattività amministrativa, è stata risolta la questione relativa al Ponte Nuovo sul Volturo. È stata rinnovata la convenzione con la stazione unica appaltante, ferma da tre anni, e in fase di realizzazione un bando per l'assegnazione dell'intervento di messa in sicurezza della struttura fluviale, in attesa di altri finanziamenti che consentiranno il suo totale recupero. Sono finalmente ripresi, dopo diverso tempo, i lavori previsti a Rione Carlo Sant'Agata per il contratto di Quatriere, la cui ultimazione è prevista nei prossimi mesi. È stata individuata, dopo anni di allagamenti, di servizi e disagi, l'anomalia tecnica che determinava il ristagno dell'acqua all'interno del sottopasso di via Santa Maria la Fossa. Sono stati adottati nel frattempo immediati interventi per la liberazione dei condotti che imponiscono il deflusso delle acque. Siccome l'impegno di questa amministrazione è volta a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica delle aree verdi, anche al fine di garantire disponibilità di spazio per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svaga e di riposo, la Giunta Municipale, a meno da un anno dalla richiesta di un cittadino nella sua qualità di rappresentante del Comitato dei quartiere di via Mezzappia, ha approvato un progetto per l'esecuzione dei lavori di innovazione della rete urbano della via, al fine di migliorare la vivibilità degli spazi disponibili. L'intervento prevede anche la realizzazione nella zona di una piccola area a verde posizionata in prossimità del civico 46, se non sbaglio. La convenzione stipulata dalla pregressa amministrazione in data maggio del 2014, con la quale veniva riconosciuto un affidamento di tre anni per questa realizzazione, se era nata nell'approvazione finale. Questa amministrazione sta cercando di risolvere anche una concreta impassa amministrativa, anche se è resitata. Per quanto riguarda la realizzazione di lavori di completamento del parcheggio di Piazza Umberto I e di realizzazione del monumento bronzio Fiera Mosca Infopoint. A seguito di una richiesta di chiarimenti in ordine alla legittimità di tutti gli atti adottati nel corso della precedente gestione, consigliare il MIBAC al riscontro dell'istanza, ha comunicato che i lavori eseguiti avevano modificato i caratteri architettonici della piazza, riconosciuti di interesse culturale. Pertanto le modifiche apportate, pur non comportando danni irreversibili allo spazio tutelato, tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione che riguardasse la reintegrazione dei luoghi, ha tuttavia stigmatizzato l'illecito amministrativo conseguente dalla realizzazione dei lavori in assenza della prescritta autorizzazione, condannando in un certo senso l'amministrazione comunale ad una sanzione pecuniaria quantificata nella misura di 516 euro. È evidente quindi il danno subito ancor più dal Comune di Cauga, che intempitato con le imprese esecutrici dei lavori, è stato pure senzionato per un caso di malagestione per le violazioni di cui supera. È stata approvata anche la programmazione preliminare per il finanziamento regionale per la rete fognare in via Santa Maria e Capovetere e tra via Giulio Cesare Falco e via Francesco Tiraso. Sono in atto altresì i progetti di individuazione e miglioramento dei sentieri del Re, di Cava Cavone e del Bosco di San Vito. È stato approvato il regolamento per le commissioni sismiche comunali inattive da anni ed è stata bonificata l'area di sedime dell'ex impianto Kuwait in via Porta Roma. In ordine al welfare e alle politiche sociali, al fine di implementare in sede locale le misure di sviluppo economico promosse dall'Unione Europea per promuovere le attività di informazione tecnica, sui principali bandi di finanziamento europei, il Comune di Capo ha strutturato lo sportello Capo in Europa che opera al servizio dell'amministrazione, delle imprese e delle fasce giovanili per migliorare lo sviluppo e l'internalizzazione del territorio. Iniziative che ovviamente non esisteva precedentemente. Il Comune di Capo, altresì in sinergia con forze politiche e sodalizze del territorio, ottenendo un finanziamento di 80.000 euro, ha espresso la propria adesione ad un consistente avviso pubblico regionale relativo al progetto Benessere Giovani Organizziamoci. L'iniziativa in attuazione della Regge regionale numero 26 del 2016 è destinata a supportare i partenariati tra soggetti pubblici, associazioni giovanili e altri soggetti senza scopo di lucro, nonché imprese mediante l'utilizzo di spazi pubblici multifunzionali. Il progetto riguarda i giovani con età compresa tra i 16 e i 35 anni che vogliono sviluppare con il partenariato dei comuni le proprie attitudini artistiche e creative. L'amministrazione punta a realizzare attraverso progetti un centro socio assistenziale aperto alle fasce più deboli ed una casa delle associazioni che possa raccogliere e far maturare le esperienze e le potenzialità dei sodalizi del territorio. I giovani hanno potuto beneficiare altresì anche del progetto Campus Estivo 2017. Un'attenta politica di welfare ha inoltre impedito che la città di Capua si trasformasse in un enorme tendopoli di richiedenti asili e di rifugiati. Con il progetto SPRAR il Comune può oggi ospitare un numero limitato di stranieri che sono formati ed integrati in comunità. Molti di essi, di concerto con gli uffici comunali, svolgono attività di sussidio alle azioni manutenative del territorio. Il Comune di Capua, Conte Libera di Giunta, farà parte del Parco Urbano Intercomunale del Monte di Fata in prospettiva della riqualificazione delle aree boschive protette e in funzione del suo potenziale collegamento con il Parco Regionale del Partenio, del Taburno, del Monte Maggiore in una condizione di continuità con il Parco Urbano Intercomunale della Dea Diana. Puntiamo, infine, non ultimo, ma una delle cose che ci proponiamo con molta decisione di approvare il PUC, il Piano Urbanistico Comunale, e di valorizzare senz'altro il Museo Campano riappropriandoci delle nostre importanti tradizioni. Ci sono tante iniziative in cantiere, come vi ho esposto, e confide di realizzarle tutte con oggettiva praticità e concretezza, lontano dalle sterili, pretestuose e talvolta livorose polemiche, e comunque sempre con la massima apertura a forme di dialogo civile e democratico, nel rispetto delle rispettive posizioni e nel riconoscimento dei ruoli assunti. Vi ringrazio e vi auguro un felice e prospero 2018. Grazie.